La sera, ultimo aggiornamento di oggi, muoversi in Toscana, in studio Mauro Ciutini, veicolo in panne sulla 1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. C'è una perdita di carico sulla Firenze Pisa, la 11 tra Prato Ovest e Pistoia in direzione di Pisa. Altra perdita di materiali sulla Firenze Pisa Livorno tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Est in direzione di Livorno. Veniamo alla 1, traffico intenso tra Firenze Sud e in Cisa Reggello in direzione di Roma. Passiamo ai viali a Firenze dove il traffico è ancora intenso sia in entrata che in uscita città. E per chi viaggia domani in Toscana il tempo previsto dall'amma nella prima parte della giornata, nubi basse nel pomeriggio nuvoloso con rovescio brevi temporali. In serata però torna il sereno o tempo poco nuvoloso. Muoversi in Toscana con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Buona serata.